Benvenuti a un altro episodio di ESPA, fenomeni paranormali. Gli ospedali psichiatrici come questo un tempo erano utilizzati per abbandonare familiari problematici, piuttosto che luoghi per curarli dai loro disturbi. Molti erano disturbati, particolarmente strani. È davvero impetante. Devi credermi. Ho visto qualcuno alla fine del corridoio. E lui pensa che qualcosa l'ha spinto giù dalle scale. Per esempio, vedete questa finestra che io chiudo bene di notte? A volte la mattina dopo la ritrovo spalancata. Stasera, io e la mia troupe, con le più sofisticate attrezzature usate nella caccia ai fantasmi, cercheremo la prova dell'esistenza di presenze che ancora non hanno trovato pace. C'è qualcuno qui con noi? Che cos'era? E se fossi qualcosa di reale? Hai sentito? Tu l'hai visto? Sì. Voglio documentare tutto, perché quando usciremo da questo posto, le persone vorranno vederlo. Matt e Houston sono spariti. Dobbiamo trovare un'uscita. Cosa, cosa, cosa? Hai visto? C'è qualcuno! Dove sei? Ehi. Ehi. Tu chi sei? Come mai sei qui? Che sta succedendo qui? L'hai sentito? Che sta succedendo lui? Cosa? Che sta succedendo? Che sta succedendo qui?